37 piante di canapa indica prossime alla raccolta, oltre 230 grammi di marijuana e circa 30 grammi di hashish. E' questo il bilancio delle operazioni effettuate lo scorso mese dai finanzieri della tenenza di Piedimonte Matese. La sostanza stupefacente era sicuramente destinata al popolo della Movida, soprattutto ai giovanissimi. Il raccolto ottenuto dalle piantagioni una volta lavorato e dissiccato avrebbe prodotto almeno 12 kg di marijuana per un valore di mercato di oltre 60.000 euro. I baschi verdi durante l'attività di controllo, volta il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, fenomeno sempre più crescente nei comuni dell'Alto Casertano, hanno individuato due coltivazioni con piante alte fino a 3 metri messe a coltura nella campagna in agro del comune di Dragoni e fermato uno dei due proprietari delle piantagioni, nei confronti del quale, oltre alle 25 piante di canapa indiana, sono stati sequestrati 230 grammi di marijuana, in parte già confezionata in dosi. Sequestrata anche una seconda piantagione, costituita da 11 piante di canapa indiana, organizzata all'interno di una fitta boscaglia nel comune di Dragoni, nei confronti di soggetti ignoti, in quanto il proprietario del terreno è risultato deceduto e gli eredi stabiliti all'estero. In ultimo, nei comuni di Piedimonte Matese e San Gregorio Matese, le fiamme gialle hanno scoperto una pianta di canapa indiana e oltre 30 grammi di hashish.